Sconcerto è stato espresso dal Rettore dell'Università d'Annunzio di Chieti per questa decisione unilaterale del dirigente della ASL, Schael, di chiudere il reparto di geriatria. Si sarebbe aspettato quantomeno un'interlocuzione con l'Università? Certamente, perché la clinica geriatrica è una clinica universitaria, direzione universitaria. Io sono un'universitaria convenzionata, sono ordinario di medicina interna e quindi a tutti gli effetti questa clinica, oltre che avere la funzione fondamentale assistenziale con 23 posti letto dedicati a pazienti anziani e fragili, è una clinica a tutti gli effetti inserita nei percorsi universitari obbligatori degli studenti, dei tirocinanti, degli specializzanti, cruciale per la loro formazione e per il mantenimento anche delle scuole di specializzazione. E quindi l'Università è un interlocutore fondamentale, il primo sotto questo punto di vista. Che ricadute avrà in praticamente questa chiusura del reparto sull'utenza? Temo che avrà delle grosse ricadute, perché di fatto vengono soppressi al momento 23 posti letto, che sono quelli dedicati, con un percorso dedicato ai pazienti anziani, che sono i pazienti più fragili, i pazienti più bisognosi di ospedalizzazione e di cure e di personale dedicato. E colgo l'occasione per ringraziare il mio staff medico, infermieristico, ausiliario, perché è veramente personale, oltre che preparato, ma estremamente dedicato. Tutto questo dal 28 di giugno non ci sarà più e quindi avremo oltre che 23 posti letto in meno in area medica, li avremo in un momento in cui c'è invece un aumento enorme di richiesta, soprattutto per i pazienti anziani, che sono ad altissimo rischio di scompenso, soprattutto in questa fase di caldo, quindi disidratazione, possibili scompensi di patologie croniche, e anche in considerazione dell'aumento degli contagi Covid, perché la clinica geriatica è stata anche fortemente implicata, coinvolta e attiva nella lotta al Covid. In questi anni siamo stati in prima linea proprio nell'emergenza Covid, essendo Covid per molti mesi consecutivamente a più riprese. Di fatto, proprio in un momento in cui i contagi stanno aumentando e stanno aumentando i ricoveri, soprattutto degli anziani, in relazione a questa emergenza, viene meno anche totalmente la possibilità da parte nostra di poter dare un contributo all'area medica sotto questo punto di vista. Io auspico vivamente anche alla luce proprio degli aumenti dei contagi Covid recenti e quindi di tutte le emergenze che si stanno profilando, oltre a quelle che già ci sono, che le necessità di coprire i turni al pronto soccorso possano essere ovviate in altro modo. Confido nella possibilità di una soluzione alternativa che non passi attraverso la chiusura di una unità medica. è importante per l'utenza, è importante per gli anziani, è importante per i cittadini, è importante per gli studenti e per l'università in toto.